buongiorno a tutti siamo con la evi e siamo in partenza per roma per questo weekend toccate e fuga non è stata una cosa così improvvisata quindi alla grande siamo pronti si va salutiamo anche lo gnomo ciao gnomo ci vediamo da un paio di giorni eccoci qui al viminale appena arrivati a roma a te inizia a mangiare iniziamo a scoprire l'altra compagnia male boss ma vostra che è dura gli altri stanno contrattando il posto ecco tutta la compagnia riunita salti in bocca alla romana buongiorno 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 Lasciamo il Colosseo e andiamo verso l'Altare della Patria. Circo Massimo, sta l'immensa area. Andiamo a vedere il comune. Il comune di Roma, spettacolo, bellissimo. Adesso Altare della Patria, che spettacolo ragazzi. Ciao! 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 E' una che sa un po' di storia Piazza Navona Eccoci Piazza Navona Oggi si mangia qua Da Gigetto E lì sei contenta? Sì Contentissima Brava Dopo la Tidia Che roba Questa è in mezzo all'isola Tiberina L'isola Tiberina Qui guarda c'è un bel ponte romano Distrutto Si fa il ponte E andiamo Verso la Bocca della Verità Si cammina oggi parecchi chilometri Il modo migliore per girare Roma è a piedi Qui sotto c'è la Bocca della Verità Ora vi porto a vederlo Questa è la prima mezza Questa è una delle mie Un piacete Crescendo La Bocca Questa è la Bocca Questa è la sua 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 Questa è una fangice eccoci qui il lancio della monetina questo è il lavoro di Fabio questa domenica mattina, un po' piovosa, un po' uggiosa, stiamo dirigendo verso la città del Vaticano stiamo avvicinando a Castel Sant'Angelo, giusto Eli? sì, eccolo qui sul fondo San Pietro, ora da là si affacerà il buon Papa Francesco per far l'angelo qui, dal centro del fuoco dell'enlisse, guardate che si vede solo una colonna di un po' più loro che salutano, ciao! guardate quanto è bella la prospettiva ragazzi, se la guardi da qualsiasi altro punto il colonnato vede tutte le colonne di mezzo invece dal fuoco se ne vede solo una e si allineano tutte si entra in basilica grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti oggi a pranzo fettuccine se magna da il mitico Alfredo l'articolo della campana eccolo qua forse tu intendevi questo perché quello non mi sembrava il piatto d'onore del ristorante Alfredo grazie che lusso mamma mia perché qua c'è tutto il la scarpetta eh la scarpetta grazie a tutti grazie 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 uguale preciso ma gusto uguale effettivamente il naso non scherza eh vedi uguale grazie stiamo salendo tutta la scala in Trinità dei Monti è ora di rientrare troppo dietro Italo dopo aver mangiato una bella gricia e una fetta di torta e una matriciana bella top mai mangiato una matriciana così buona ciao ciao ciao